Musica Venerdì 23 dicembre, Santa Francesca da Chetti E' il 358esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 8 alla fine Il sole sorge alle 7.48, tramonta le 16.32 La luna si leva alle 2.03, tramonta le 13.24 Lorenzo Venier è nominato capitano generale da mar, ossia comandante in capo di tutte le forze navali della Repubblica Le previsioni per domani Cielo sereno o poco nuvoloso A sud dell'asse Verona-Venezia, nebbie diffuse fino all'alba e dopo il tramonto In dissolvimento quasi ovunque nelle ore diurne ma localmente persistenti Altrove nebbie locali nelle ore notturne Precipitazioni assenti e temperature sulla pianura in diminuzione Sui monti in aumento di notte e senza variazioni di rilievo o di giorno Il primo è tutto 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 il